Ciao, oggi parlerò della nuova classe, ossia quella della Archer Mago e vedremo un po' quale skill andare a prendere, quale armatura è meglio andare a indossare e anche quale arma. Poi andremo a vedere anche le capacità e infine quale gruppo è meglio avere per riuscire ad avere migliori risultati per quanto riguarda le pedine. Iniziamo subito. Dunque, allora, una skill che vi consiglio di andare subito a prendere, o perlomeno quando ce l'avete sbloccata, è la freccia implacabile, ossia scaglia una freccia magica che vola all'impazzata e acquista potenza rimbalzando sui muri efficaci negli spazi ristretti, come per esempio le grotte e quindi i dungeon, e questa è molto importante, quindi andiamo a imparare. Un'altra skill da andare a prendere è la freccia incandescente, ossia scocca una freccia a volte in un fuoco magico che esplode all'impatto. La traiettoria della freccia può essere controllata dopo averla scoccata, infatti possiamo girare il mouse a seconda della nostra direzione. Dunque, questa è molto importante perché ci può essere molto utile facendo danni a tempo anche e soprattutto sui boss. Sotto, vedete, abbiamo una freccia arroventata che ci dice che è una versione avanzata della freccia incandescente, quindi andiamo a imparare direttamente questa visto che l'abbiamo già sbloccata e direi a questo punto che la vado a mettere sul tasto V. Allora, adesso vado a prendere la grande inimpiettosa, l'avevo già sbloccata, quindi quella più, vedete che c'è la freccia qui sotto, quindi sono quelle sopra però migliorate, quindi più devastanti come dice qua, e quindi andiamo a imparare e anche questa poi la vado a sostituire, che sarebbe, posso metterla qua. Con questa classe possiamo andare a fare anche un po' di supporto se vogliamo o fare soltanto DPS, infatti ha questa skill che si chiama freccia rianimante che scagliata va a rianimare le pedine cadute quando è completamente carica. Dunque anche questa qui è sempre fa parte del supporto perché va a scagliare una freccia stregata che ruba la salute dei nemici sul suo cammino e le dona, quindi dona la salute alle pedine alleate. Se vogliamo farlo completamente DPS andiamo a prendere il puntello scintillante. Dunque, allora, questa skill che lancia un palo avvolto da un fulmine magico che trafigge bersagli o si conficca nel terreno. Se i pali si conficcano uno vicino all'altro e mettono fulmini tra di loro infleggendo parecchi danni. Vedete, qui fa vedere anche poi come funziona. Adesso questa qui la voglio provare, dovrebbe essere una delle migliori, quindi andiamo a mettere sullo spazio. Ok, allora abbiamo preso freccia arroventata, grande e devastante, freccia implacabile e puntello scintillante. Allora, abbiamo preso freccia arroventata, grande e devastante, freccia implacabile e puntello scintillante. Dunque, per quanto riguarda le capacità, dobbiamo andare a giocarci l'arciere, lo stregone e il mago per ottenere le capacità giuste. Quelli importanti sono la tenacia, l'asperità, la catalisi, l'imboscata e poi c'è l'esaltazione che io ancora non ho perché non ho mai giocato il mago, però va aggiunta. Qua ho aggiunto il coraggio che, se non ricordo male, si prende utilizzando il guerriero che va a aumentare un pochino la vita, però non fa parte della nostra vera e propria build. Quindi, se volete completare, mettete esaltazione e in questo caso io andrò a giocarmi il mago. Dunque, un po' in questi giorni, molti di voi mi avete scritto che avete dei problemi con i vostri PG a fare determinate cose. Ovviamente è chiaro che se a livello 10 intraprendete la corsa per andare giù all'isola volcanica, nonostante prendete tutte le precauzioni, siete molto scarsi, quindi avrete sicuramente grosse difficoltà ad arrivare laggiù. In alternativa, ora vi spiego un po' come scegliere le vostre pedine. Allora, con questa vocazione vi consiglio di prendere una pedina guerriero o quantomeno fighter, poi aggiungere un mago support, quindi che cura, e infine scegliere tra uno stregone o un ladro. Io preferisco la classe dello stregone, ma dovete stare molto attenti quando andate a scegliere una pedina di andare a guardare non solo cosa vi dà, eccetera, ma qui soprattutto inveni informazioni della pedina, perché qui dovete andare a vedere, mettiamo che sia un mago, poi ovviamente vale per ogni vocazione, per esempio questa quanto fa di magia. A questi livelli la magia massima che uno può avere è 700, vedete che è un po' scarsetta, quindi cercate di andare a prendere delle pedine ben vestite, se no non vi aiuteranno affatto all'interno della vostra avventura. Oltre a tutto quello che si è detto finora, una cosa molto importante per andare a fare più danni è sicuramente avere le armi e l'armatura giusta. Per quanto riguarda le armi, le trovate dai mercanti, in questo momento quella che vale di più è questa qui, l'ala demoniaca. Lo capite anche dal prezzo, ma comunque confrontando poi, vedete dove c'è il numero blu più alto, in questo caso io avrò bisogno di magia, è l'arma migliore e costa ben 65.000. C'è da dire che le armi di Endgame costano più o meno queste alte cifre. Una volta acquistata la nostra arma nuova, andremo ad upgradarla, quindi facciamo così, e vedete che qui dobbiamo avere tre oggetti, possiamo al massimo upgradarla tre volte, quindi migliorarla per tre volte. Ci chiederà dei materiali, in questo caso l'ala è impura, me il manca per andare avanti, quindi ogni volta andremo ad aggiungere un tassello nuovo, fino a un massimo di tre. Dunque a questo punto lo stesso discorso è valido per quanto riguarda l'armatura. Trovate facilmente l'armatura adatta a voi, perché andando dal mercante, quelle che non vanno bene per la vostra classe sono contrassegnate da un quadrattino in rosso. Ovviamente poi dobbiamo aggiungere due anelli, uno per dito, veramente validi, che andranno a cambiare classe per classe. Quindi questa è la build che vi consiglio di andare a utilizzare per quanto riguarda la vocazione dell'Archive Margo. Grazie per la visione, ragazzi, come sempre mi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando tutte le campanelle, mettere un bel mi piace, e continueremo con i video. Quindi non me ne perdete neanche uno, se ne avete perso qualcuno, mi raccomando consultate la playlist di questo gioco. Ciao e alla prossima! Grazie per la visione!